destinazione di oggi cisterna d'asti bene ragazzi ciao a tutti e bentornati sul canale di satur ore 5 per una nuova importantissima produzione video oggi domenica 18 febbraio 2024 siamo ai confini fra la provincia di cuneo la provincia d'asti siamo a cisterna d'asti che è già un paese che appartiene alla provincia d'asti finito il paese inizia la provincia di cuneo per la precisione ci troviamo al centro outdoor proprio di cisterna d'asti un punto dove c'è un parcheggio anche molto molto comodo con un panorama validissimo qua sulle colline del roero e adesso abbiamo intenzione di andare un pochettino a casaccio senza seguire un sentiero particolare in direzione nord diciamo in direzione tra guarene e ferrere e vedere se riusciamo a inventarsi un percorso anche da queste parti che tra l'altro sono anche confinanti con le zone che abbiamo già documentato diverse volte con partenza ferrere che rimane naturalmente un po più su un po di chilometri in questa direzione e partiamo quindi da casa natura ed ecco casa natura sostanzialmente attraversiamo la provinciale vediamo laggiù in fondo già il cartello che indica proprio provincia di cuneo sbarrata ragazzi abbiamo il richiamo di casa natura e tempo 5 minuti arriviamo proprio a casa natura ora casa natura per chi mi segue da un pezzo non è assolutamente una novità è un punto di riferimento molto importante di un percorso che abbiamo già documentato e credo anche più di una volta in diverse stagioni e cioè il sentiero nella valle del biotopo con partenza dal centro outdoor di monta si fa tutto un lungo percorso si scende giù per la valle del biotopo che è una zona geologicamente e anche faunisticamente di un certo rilievo ragazzi un habitat 100% naturale poi si fa un salitone verso su per completare un anello l'ultimo tratto è comune al sentiero del castagno e alla fine del salitone si arriva proprio a casa natura e siamo qua nel punto praticamente più alto del sentiero del biotopo noi chiaramente non partiamo adesso da monta come facevamo quando facevamo il biotopo ma partiamo qua dal centro outdoor di Cisterna d'Asti ed a casa natura vediamo di abbracciare un pezzo del percorso del biotopo o meglio il tratto finale quello del ritorno di questo splendido sentiero e vediamo se riusciamo ad agganciarci con qualche altro sentiero che porta su come dicevo prima nella direzione di Quarene Ferrere partenza ore 14 e 40 eccoci qua a casa natura ragazzi questo è un punto veramente importante perché è una specie di punto di smistamento di diversi sentieri ne abbiamo uno due tre ce ne sono veramente tanti uno che noi che siamo arrivati di là poi ce ne sono tanti ragazzi c'è anche il sentiero casa natura che credo che sia proprio soltanto un sentiero che gira qua intorno per far vedere questo importante punto di smistamento e più giù c'è la confluenza con il biotopo biotopo ragazzi escursione riservata a escursionisti esperti un percorso abbastanza impegnativo ci sono dei punti in cui addirittura ci sono le corde vedete casa natura anche qua una specie di centro outdoor si può considerare vedete qua spiegano tutte le il tipo di vegetazione che c'è che ci troviamo in queste da queste parti qua canale ecologia casa natura perfetto vi faccio vedere qui naturalmente transita l'S1 che è uno dei sentieri più importanti del Roero questo è il sentiero di provenienza del biotopo ragazzi questo è l'ultimo tratto di una lunghissima salita che parte da un vallone profondissimo che c'è giù come dicevo ci sono alcuni tratti dove bisogna ci sono addirittura le corde per arrampicarsi su qua abbiamo canale oase di San Nicolao biotopo 035 ma non è la nostra direzione se no monta a castello S1 tappa Santo Stefano Roero non è neanche questa la nostra direzione in ogni caso qua abbiamo di nuovo richiamo S1 vedete importantissimo ci incamminiamo su questo crinale molto paesaggistico qua con vedute a destra e sinistra abbiamo un'altra giornata molto molto bella di questo inverno 2024 febbraio ragazzi siamo al 18 e abbiamo combinazione 17-18 gradi rispetto a ieri il cerolo è leggermente più velato anche se fondamentalmente c'è una prevalenza di sole non c'è la visibilità bella lunga con aria cristallina come ieri ieri c'era veramente un sole spettacolare ragazzi andate a vedervi la produzione se vi interessa tra piovesi d'alba e corneliano è stato venuto veramente molto molto interessante la zona qui è una delle più belle del Roero peccato che c'è questa leggera foschia ma non ci lamentiamo per niente sì c'è un po' di umidità un sole un po' pallidino ma chi se ne frega scopriamo qui un cartello nuovo mai visto la panchina nana e visita rocche dell'oasi qua di San Nicolau ragazzi una piccola deviazione da fare dal sentiero Mila se vuoi venire vediamo un attimino perché qui sovente ci sono le panchine giganti sono un po' la moda degli ultimi anni tra Lang e Roero forse soprattutto Lang e le panchine giganti adesso qui per differenziare questa panchina dalle altre grosse gigantesche l'hanno battezzata la panchina nana e effettivamente è un punto di osservazione davvero notevole perché vedete c'è questa panchina uno quando arriva da ore e ore di camminate qua si può sedere qui e ammirare praticamente tutto il panorama delle rocche del Roero mi spiace di nuovo qua oggi abbiamo DJI Osmo Axion 4 ragazzi non riusciamo a zoomare perché sennò laggiù vedete proprio si vedono chiaramente le rocche tipiche del Roero e proprio in fondo a questo vallone giù in lontananza c'è il vallone del biotopo da cui si fa il salitone che vi ho fatto vedere prima e si arriva fondamentalmente da casa natura che per noi rappresenta invece stavolta un punto di partenza Camilla basta siamo di noi che dobbiamo giocare basta Camillina basta Camilla è un tratto di percorso veramente notevole ragazzi è già bello adesso che siamo ancora nel seccume invernale vi lascio immaginare che cosa vuol dire questo paesaggio in primavera tipo aprile maggio quando tutto fiorisce l'abbiamo già documentato chi fosse interessato può andare a vedere sul mio canale dal centro outdoor di Monta abbiamo fatto veramente tanti ma tanti tanti percorsi tra cui il biotopo che è quello in assoluto più interessante troviamo sulla nostra sinistra in basso questo profondo abisso questo quasi spaventoso abisso che porta il biotopo il percorso comporta chiaramente un lungo discesone ragazzi e poi successivamente un lungo salitone fino proprio a casa natura che abbiamo passato appena adesso adesso noi arriviamo più avanti ci sarà un bivio dove ci troviamo come dicevo prima sul tratto di ritorno del sentiero appunto del oasi san nicolao valle del biotopo eccetera eccetera c'è un bivio a destra che abbiamo sempre visto però abbiamo sempre tenuto la sinistra vediamo se riusciamo a prendere a destra e magari agganciarci con qualche altra zona non credo che arriveremo fino a Ferrere può anche darsi o comunque qualche zona diciamo verso tra Guarene e Ferrere un tronco d'albero segato ragazzi però con questa cavità qui in mezzo è veramente originale queste zone sono di particolare interesse come dicevo prima ragazzi perché sono tra le zone più selvagge in assoluto abbiamo la natura allo stato puro qua questa zona proprio della valle del biotopo come dicevamo prima siamo in pieno roero in piena presenza anche delle tipiche rocche del roero e tutte le volte che veniamo da queste parti siamo già venuti diverse volte apprezziamo sempre maggiormente un po' in tutte le stagioni insomma proprio a questa zona così isolata così con bassissima densità di popolazione perché qua veramente è un'area molto 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 grande si può camminare o spostarsi anche in bici insomma per chilometri senza incontrare un'anima viva e abbiamo proprio la come possiamo dire la massima rappresentazione di ciò che è effettivamente questa zona appunto del roero direi che se uno dovesse fare un reportaggio fotografico qui più che non in altre zone si capisce proprio che cosa significa veramente il roero intanto scopriamo qui una caverna ragazzi che ci abita qui ci abita qualcuno beh non è molto profonda e comunque sembrava di più proprio in questo punto passiamo dalla provincia di Astia quella di Cuneo vedete ragazzi qua passiamo da Cisterna che è in provincia d'Astia appunto a Montà che è il primo paese della provincia di Cuneo ok ragazzi arriviamo al famigerato Bivio qua noi proseguiamo sempre dritto sul sentiero del Castagno per completare l'anello del Biotopo ma abbiamo sempre visto questo Bivio che scende in basso a destra ma non l'abbiamo mai sperimentato la missione di oggi è prendere in questa direzione e vedere dove porta secondo me porterà in direzione tra Guarene e Ferrere pare che sia anche l'ultimo tratto il primo o secondo di come vogliamo chiamarlo tratto dell'S1 che voi sapete che è uno dei più importanti sentieri anzi il più lungo in assoluto del Roero c'è l'S1, l'S2, l'S3, l'S4 con partenza da Cisterna d'Asti e arrivo a Bra ebbene questo potrebbe essere proprio il primo oppure ultimo dicevamo tratto del S1 ricordiamo oltretutto che da questo Bivio in avanti adesso vedremo dove porta è anche bello scoprire magari fare dei chilometri e poi arrivare a un Bivio a un'indicazione e cercare di scoprire dove si è ragazzi roba dell'altro mondo qua siamo in una zona ancora più selvaggia di prima guardate in mezzo alla vegetazione notiamo una cosa stranissima a certo punto per terra sul percorso vediamo dei rami di ulivo tagliati e qua non esiste alcun tipo di ulivo più dell'insalata sembra un qualcosa di coltivato proprio e questi sono rami di ulivo ragazzi stiamo camminando per questo tratto su questo tappeto di rami di ulivo tra l'altro anche molto belli però non vediamo ulivi da nessuna parte perché qua gli ulivi sono rari qualcuno c'è ma qui non è che crescano gli ulivi naturalmente in mezzo a questa giungla quindi è veramente strano poi continuiamo invece il percorso su questo diciamo sentiero terroso fondamentalmente per fortuna non è paciorloso una terra però molto morbida dove si sprofonda anche abbastanza non è proprio il massimo per camminare e siamo emozionati perché dobbiamo proprio capire qua dove porta questo sentiero una leggera discesa solito interrogativo che ci poniamo sempre riusciremo poi mai a fare un anello cercando di orientarci e ricordarci dove il nord e il sud e l'est e l'ovest o non riusciremo? forse sì forse no a volte ci va di lusso e riusciamo a volte invece non riusciamo ma non importa l'importante è sperimentare questa zona ma l'obiettivo principale è cercare di capire dove porta perché poi magari vediamo un incrocio riconosciamo qualche borgata qualche frazione qualche paese e quantomeno ci orientiamo proseguiamo con grande grande emozione dopo un lungo tratto notiamo sulla nostra destra il richiamo dell'S1 perché ragazzi questo è proprio l'ultimo o primo tratto dell'S1 dopo un ulteriore tratto su questo sentiero assolutamente sabbioso ragazzi troviamo le indicazioni in prosecuzione del S1 sentiero del Roero indica già anche centro storico di Cisterna d'Asti quindi ci ho visto lungo pare che adesso prendendo qua a destra effettivamente un anello se riesca a fare ci sarà adesso da questo punto in avanti anche una salita finora siamo scesi ci sta in pieno e proseguiamo da questa su per questo sentiero dopo un ripido salitone ragazzi arriviamo di nuovo su un crinale abbiamo visto un bivio cisterna d'Asti 35 minuti sulla destra e lì sarebbe già un anello completato però prendiamo dalla direzione opposta cioè sulla sinistra per vedere dove porta da questa parte questa è una zona nuova mai sperimentata e bellissima come tutte le zone qua selvaggio da paura l'ambiente la casa più vicina qua dice veramente chilometri l'aspetto particolare è proprio questo di questa zona specifica del Roero ragazzi e qui è uno dei tutto sommato pochi ambienti che si presterebbero per il Fiel del recording non è detto che poi magari la prossima primavera cioè fra un mesetto o qualcosa in più io decida poi di venire qua magari con Panasonic HCX2000 con audio tecnica BP4025 montato sopra e fare del Fiel recording perché già adesso ragazzi si sentono rumori e suoni veramente interessanti e chiaramente per essere un Fiel recording puro nella registrazione non devrò comparire suoni o rumori di provenienza umana se no non sarebbe più un Fiel recording 100% natura zona veramente interessante sotto ben più di un punto di vista ok ragazzi abbiamo fatto un pezzo abbastanza lungo anche di questo nuovo sentiero mai sperimentato sembrava che non fosse indicato poi a un certo punto è comparsa una misteriosa tacca bianca e rossa su un albero quindi significa che da qualche parte porta arrivati a un punto iniziava una ripida discesa verso giù un canalone e ho detto non vorrei poi dopo dover risalire al canalone senza neanche sapere di preciso dove poi portasse il sentiero quindi abbiamo deciso di fare dietro front e arrivare di nuovo al bivio dove a sinistra prendiamo poi in direzione cisterna d'asti osserviamo sulla nostra sinistra un spaventoso profondissimo strapiombo qui vedete che è una parete va giù veramente secco 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 e bisogna fare attenzione perché poi oltretutto qua il terreno è anche parecchio friabile proseguiamo adesso su questo sentiero qui arriviamo poi al famoso bosco dei bambini che è una cosa abbastanza conosciuta cisterna che tra l'altro abbiamo già anche sperimentato credo che porti lì lo indicava il cartello prima proseguiamo per questo sentierino in questa zona che è sempre più selvaggia più procediamo e speriamo soltanto di non dover fare il mega un altro mega discesone per poi rifare il salitone fino a cisterna potrebbe anche essere non è da escludere che magari non lo so per il momento così si presenta il sentiero vediamo di procedere peccato oggi la giornata a differenza di ieri abbastanza sul grigetto sembra addirittura che ci sia una mezza nebbiolina ma noi teniamo duro e procediamo purtroppo come immaginavo ragazzi discesone giù negli abissi speravo tanto di evitare dunque seguirà di nuovo salitone perché cisterna si trova in alto speravo di riuscire a trovare un crinale che più o meno mantenesse la quota invece no niente da fare vabbè dai intanto qua zona nuova e l'ultimo tratto invece non è nuovo perché una precedente volta arrivando da un'altra direzione ci siamo collegati e notiamo qua questi tipici panorami le rocche vedete del Roero questi strapiombi queste pareti di roccia o meglio di terra argillosa sono tipiche del Roero ok siamo arrivati al fondo di questo vallone che vedevamo dall'alto ragazzi zona fresca d'estate fredda d'inverno comunque sempre umida un po' bagnaticcia dove ristagna l'acqua dove non evapora mai niente dove è facile trovare degli acquitrini nel frattempo siamo comunque sempre sull'S1 vedete la conferma dei cartelli qua ci sono diversi incroci bivi ma osserviamo che abbiamo qua il cartello questo qua vecchio a differenza di quelli più recenti cisterna dusty 30 minuti procediamo dunque in questa direzione ed ecco qua il bosco dei bambini ragazzi vedete qua è tutta un'area con delle piante degli alberi con i nomi relativi vedete bosco dei bambini e cisterna d'asti 20 minuti manca veramente poco terminato il salitone ragazzi siamo arrivati praticamente sulla prosecuzione della strada di cisterna che ha le nostre spalle manca ancora un pezzettino di asfalto e arriviamo al punto di ritorno barra partenza ed eccoci arrivate di nuovo a casa natura bene ragazzi anche questa produzione video volge al termine ora di arrivo 17.46 ragazzi ore di partenza 14.40 quindi 3 ore e 0.6 di marcia come tempo direi abbastanza nella media forse anche qualcosetta in meno perché la nostra media è leggermente superiore anello riuscito indovinato pur non avendo programmato nulla a livello di cartografia o comunque a livello di progettazione prima della partenza appunto di questo itinerario zone veramente bellissime del Roero zone veramente affascinanti peccato la giornata un po' lattiginosa il cielo non proprio così brillante come spesso e volentieri è successo appunto questo fortunatissimo inverno 23-24 caratterizzato da clima mite ma come di consueto ragazzi prima di chiudere facciamo ancora una piccola postilla riguardo a Fleximan che sta operando sempre meglio si sta espandendo anche in altre zone partito del Veneto dicevo nell'ultimo video appunto ha agito anche a Ivrea sulla statale 26 tirando giù una macchinetta mangia soldi che comunque credo forse abbia beccato anche me una volta che passavo di lì tanta roba almeno per un po' di tempo non avremmo più ladrate almeno da quella zona ultimissima notizia ho saputo grazie alla segnalazione di qualcuno di voi che a Susa sono in programma tre non uno non due ma tre in culavelox tre macchinette mangia soldi quindi Fleximan lui o qualche emulatore una segnalazione da Saturn V uno dovrebbe essere già in funzione gli altri due arriveranno prima che il comune di Susa incominci a rubare soldi agli automobilisti non solo di Susa ma anche tutti quelli in transito in passaggio dalla Val di Susa mi raccomando Fleximan non so se ti sposterai vi sposterete così a Ovest nel nord Italia in ogni caso a Susa io mi auguro che prima ancora che entrino in funzione che vengano spaccati e in maniera da garantire almeno la sicurezza dei portafogli dei poveri automobilisti che saranno appunto che transiteranno in prossimità di queste fottutissime macchinette mangia soldi come al solito ragazzi mi raccomando mettete un bel pollicione verso l'alto se la produzione è stata di vostro interesse iscrivetevi al canale Forza Fleximan sempre al prossimo video ciao